Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Elettra Lamborghini rassicura i suoi fan sulla situazione a Miami, Florida, dopo l'uragano Milton. La cantante si trova nella città insieme al marito Afrojack e ha condiviso su Instagram le ultime notizie sul maltempo. Nonostante la forte preoccupazione generale, Elettra assicura che a Miami tutto è sotto controllo. La zona più colpita è Tampa, distante quattro ore di auto da dove si trova lei. La Lamborghini vive in un palazzo alto, quindi il vento si fa sentire sempre. Ma la situazione non è così grave come si potrebbe pensare. L'uragano Milton, che avrebbe dovuto essere di categoria 5, è rimasto a 3 e poi si è abbassato a 1. Elettra sottolinea che nonostante ci siano stati danni, la città di Miami è stata risparmiata. La cantante invita i suoi fan a stare tranquilli e a non credere a tutto ciò che vedono online, sottolineando che la situazione non è così drammatica come si potrebbe pensare. Mentre condivide lo screenshot del percorso dell'uragano Milton, Elettra racconta che si è preparata per l'arrivo del maltempo, insieme al suo cane. Dopo l'uragano, la cantante ha rassicurato i suoi fan che a Miami tutto è tornato alla normalità e che la situazione non è così grave come si temeva. Nonostante ci siano stati danni in altre zone, la città di Miami è stata risparmiata dalla furia dell'uragano. Elettra Lamborghini continua a tenere aggiornati i suoi fan sulla situazione e a condividere dettagli.